Come si ripercuote nei tempi di realizzazione e nei costi? Come si ripercuote nei tempi di realizzazione e nei costi? Come si ripercuote nei tempi di realizzazione e nei costi? Come si ripercuote nei tempi di realizzazione e nei costi? Come si ripercuote nei tempi di realizzazione e nei costi?